Buongiorno a tutti dalla redazione di Simpli Beats, nuova puntata della nostra rubrica Face to Face. Oggi è il nostro ospite Massimo Garlini che è il direttore commerciale di Prestito Felice. Siamo con lui per parlare un po' di quelle che sono i progetti in cantiere, gli sviluppi che la rete sta conoscendo, che la società sta conoscendo e di quelle che sono le prospettive per il futuro, i risultati raggiunti nel 2017 e questa prima parte del 2018. Massimo allora intanto benvenuto nella nostra redazione e la prima cosa che ti chiederei è di parlarci un po' dei risultati che avete raggiunto nel corso del 2017 di cui avete parlato anche durante la vostra recente convention a fine marzo e ecco se ci puoi illustrare un po' i numeri che avete fatto. Abbiamo consolidato la nostra crescita e ci stiamo lanciando per un 2018-2019 sicuramente importante con degli obiettivi di crescita molto molto ambiziosi. Abbiamo presentato i dati del 2017, abbiamo presentato i progetti del 2018 durante questa convention, questa convention si è tenuta in crociera, è stato un momento di relax, una vacanza che abbiamo voluto regalare a tutti i nostri partner, collaboratori, dipendenti, quindi tutti quelli che compongono la nostra squadra, chi da molti anni e chi invece è appena entrato a far parte di questo gruppo di lavoro. È stato un momento sicuramente importante, l'amministratore Felice Penza ci teneva ad organizzare già da qualche anno questo tipo di evento ed è riuscito molto molto bene. I contenuti che abbiamo esposto sono stati sicuramente i risultati del 2017 e poi abbiamo parlato molto dei progetti del 2018 e le novità. La maggior parte delle novità che abbiamo presentate sono relative all'innovazione tecnologica che ogni anno, ogni giorno immettiamo nel nostro sistema, nel nostro processo produttivo perché pensiamo che questo mercato, questo settore e soprattutto il nostro, ovvero le società di mediazione con rete distributive debbano investire in tecnologia perché solo attraverso la tecnologia mischiata con l'artigianalità di questo prodotto poi come la cessione sia la chiave per il successo. Crediamo profondamente nell'innovazione tecnologica, investiamo tanto da tanti anni in quanto abbiamo un software di proprietà e un'applicazione di proprietà e questo, insomma, durante la convention abbiamo presentato una novità importantissima, lato mobile, quindi una release che uscirà nel prossimo semestre del 2018 relativa a FeliApp che è un'applicazione che è già in produzione ma svolge poche attività per il momento. Rilasceremo una release più completa che permetterà al collaboratore di gestire moltissime attività dalla preventivazione, scansione documentale, salvataggio del preventivo, sarà un satellite sostanzialmente del gestionale già in produzione quindi i due sistemi comunicheranno qualsiasi cosa viene salvata da una parte viene vista anche dall'altra e in un'era dove lo smartphone è diventato il primo strumento di comunicazione pensiamo che posizionarci su questo tipo di strumento sia necessario, non sia utile ma sia veramente necessario. I clienti stanno cambiando, i clienti si muovono molto più spesso sullo smartphone e quindi insomma abbiamo investito tanto e nel prossimo semestre quando rilasceremo l'applicazione per tutti i collaboratori, a disposizione per i collaboratori e per la clientela perché sarà rivolta anche alla clientela sarà una grandissima novità. Siamo molto contenti di questo. Molto bene, molto bene. Senti, possiamo tracciare un sintetico bilancio di questo primo semestre del 2018 che si sta quasi per chiudere? Sì, il primo semestre si è attestato insomma con risultati molto positivi nel comparto cessione del quinto, siamo sostanzialmente in linea con i trend di crescita e con gli obiettivi, quindi target del 2018. I target del 2018 che ci siamo prefissati sono molto ambiziosi ma sarà possibile verificare effettivamente l'obiettivo solo dal secondo semestre in poi perché il fattore recruiting incide moltissimo su questi obiettivi, i target di produzione siamo certi possono essere raggiunti ma si esprimeranno insomma i volumi nel secondo semestre in quanto abbiamo inserito molti collaboratori nuovi e questi collaboratori nuovi stanno iniziando a produrre e a dare il loro apporto alla nostra produzione complessiva e chiaramente ci vuole il suo tempo come tutti i collaboratori e come tutte le rete distributive ma stiamo ottenendo soprattutto in maggio dei risultati sicuramente molto molto importanti. Senti, a proposito dell'ingresso di questi nuovi collaboratori ci puoi raccontare un po' come si sta sviluppando la rete e in particolar modo poi la divisione commerciale di cui tu sei il responsabile. Certo, la divisione commerciale nel 2017 ha subito una grande implementazione, abbiamo aggiunto tre area manager che seguono Nord Italia, il centro e sud Italia e un area manager dedicato solo per la Calabria e la Sicilia. Questi tre area manager che mi hanno aiutato, mi aiutano quotidianamente nello sviluppo della rete commerciale ci ha permesso chiaramente di aumentare il numero di collaboratori, il numero di agenzie che hanno aperto e che stanno aprendo nel corso del 2018, mi hanno tolto un grande lavoro di spostamento verso questi collaboratori di recruiting puro e ci hanno permesso di affacciarci anche in regioni dove prima non eravamo. Quanti collaboratori avete adesso? Noi oggi abbiamo circa 40 collaboratori, c'è il sitinoam e 24 agenzie a marchio. Noi abbiamo una sede, la nostra sede storica è a Milano e poi lavoriamo sul territorio nazionale con agenzie a marchio fatte da collaboratori. Il nostro modello distributivo non è un modello che punta ad avere troppi collaboratori, non vogliamo averne tantissimi, vogliamo averne relativamente pochi per i volumi che facciamo ma avere dei professionisti, dei consulenti veri che sposano prima di tutto il nostro modello, il nostro modello organizzativo, il nostro modello di business e la nostra visione. Non tutti i collaboratori sposano questo e per questo motivo non vogliamo creare una rete distributiva con 100 o 200 collaboratori, siamo una società diversa, puntiamo molto di più sulla qualità, vogliamo avere collaboratori con un rapporto solido, un rapporto basato sulla fiducia, sulla trasparenza che non determina per forza nel primo anno, nel primo semestre, dei volumi importantissimi, ma nel tempo siamo certi che con questo tipo di modello di business i collaboratori siano molto più legati in maniera profonda alla nostra società e quindi possano esprimere maggiori risultati. Oggi noi, seppur siamo un'azienda incentrata sulla cessione del quinto, il core business è sempre stato questo e probabilmente rimarrà sempre questo, tolgo il probabilmente, rimarrà sempre questo, ma oggi stiamo esprimendo anche dei numeri importanti su prodotti, quale il prestito personale e l'anticipo TFS in cui abbiamo investito tanto, stiamo investendo sempre di più, abbiamo creato una divisione ad hoc per gestire questo tipo di prodotto in cui l'azienda crede moltissimo, in cui veramente noi crediamo moltissimo, il potenziale è molto molto alto, gli operatori, diciamo l'operatore con cui lavoriamo in questo momento ci crede ancora prima di noi e noi facciamo lo stesso, altri player si posizioneranno sul mercato e questo è sicuramente un bene per un mercato completamente nuovo, ancora sconosciuto sia dai clienti dai possibili operatori e quindi crediamo in questo prodotto e ci stiamo puntando veramente tanto, tantissimo. La rete distributiva per questo motivo ha la possibilità sostanzialmente di distribuire più prodotti e le esigenze dei collaboratori cambiano in funzione anche proprio della quantità di questi collaboratori. Aumentare la rete distributiva, far entrare nuovi collaboratori in regioni nuove, necessita obbligatoriamente da parte della società un ampliamento del portafoglio prodotti. Non vogliamo ampliare i prodotti che fanno riferimento a tipo di clientela diversa, mi spiego meglio, i prodotti che noi trattiamo, c'è il quinto prestito personale, anticipo TFS, sono tutti rivolti a una clientela retail. Non vogliamo mischiare, diciamo sostanzialmente, la clientela corporate e la clientela retail, altre società lo fanno, lo fanno anche bene in alcuni casi, non in tutti, però noi vogliamo invece gestire solo la clientela retail e per questo abbiamo scelto queste tre tipologie di prodotti da offrire ai nostri collaboratori che poi sono i nostri clienti sostanzialmente. Noi spesso in azienda parliamo con i nostri dipendenti, ci confrontiamo e cerchiamo di far capire come il nostro primo cliente è il collaboratore, è a lui che dobbiamo dare un servizio, è a lui che dobbiamo dedicare del tempo, dobbiamo fare formazione, dobbiamo ascoltarlo e dobbiamo seguire le sue esigenze e potergli offrire qualcosa. Questo è importante da capire perché quando si vuole creare una rete distributiva, noi abbiamo iniziato da anni, però quest'anno diciamo con l'ingresso di Liana Manager che stiamo correndo molto più velocemente rispetto a quanto non facevamo prima in questo tipo di divisione, è davvero necessario focalizzare i ruoli dell'azienda e dei collaboratori. I collaboratori sono il nostro primo cliente, a loro volta se noi siamo in grado di offrire un servizio ottimale al nostro collaboratore, il nostro collaboratore ha la possibilità di offrirlo al suo cliente finale e questa è una lettura che ci guida, guida me, guida l'amministratore Felice Penza nella nostra visione di impresa nel campo della società di mediazione, mediazione creditizia. Massimo, da quello che ci stai raccontando avete aperto un cantiere con tanti progetti in lavorazione, volevamo capire a livello di organizzazione e di struttura come vi state organizzando per gestirli. Certo, l'aumento della produzione, l'aumento dei collaboratori va di pari passo chiaramente con l'organizzazione interna, nel 2017 abbiamo creato delle nuove divisioni sostanzialmente che non avevamo mai avuto in azienda, Information Communication Technology, la divisione Marketing che sono due cuori pulsanti oggi dell'azienda su cui basiamo tantissimo del nostro lavoro e basiamo tutti i nostri progetti di sviluppo. L'area di Information Technology chiaramente per sviluppare e mantenere il nostro software ai livelli standard, quindi garantire un servizio alla rete distributiva e ai nostri dipendenti di altissimo livello, ricordo che il software è di nostra proprietà e quindi ha bisogno chiaramente di una gestione molto molto personalizzata. Nel 2017 abbiamo creato questa divisione con una risorsa, ad oggi siamo già a tre risorse, abbiamo un IT manager che gestisce tutte queste competenze e lavora per migliorare, continuare a sviluppare il nostro software e lavorare e migliorare per sviluppare l'applicazione di cui ho accennato qualcosa prima. Questa è una divisione molto importante che viene anche percepita in maniera positiva dalla rete distributiva, che quindi trova un supporto tecnologico per tutte le questioni che possono nascere chiaramente dal software piuttosto che dall'applicazione. La seconda divisione che abbiamo costruito, insomma, l'abbiamo, questa abbiamo iniziato a prendere una risorsa nel 2017, la prima risorsa entrata nel 2017, poi abbiamo iniziato veramente a investirci attraverso la lead generation che è una delle attività principali poi di questa divisione. Ad oggi abbiamo anche lì tre risorse, tra grafici e digital marketing che si occupano, come dicevo, di lead generation ma di marketing a 360 gradi, quindi parliamo dell'online, dell'offline, curano tutte le strategie di comunicazione del brand e comunicazione di qualsiasi genere, sia per la rete distributiva. Ormai bisogna orientarsi appunto a 360 gradi chiaramente, non è più possibile guardare solamente in una o due direzioni. No, penso che questo sia giustissimo quello che dici, penso che il marketing in generale sia necessario in qualsiasi azienda, piccola o grande che sia, che sia interno, sia esterno, ma il marketing è diventato un'attività necessaria per stare sul mercato, soprattutto in un mercato come il nostro, dove comunque ci sono, i player sono importanti, insomma le capacità dei player e dei nostri competitor sono molto molto importanti, noi ci crediamo profondamente nel marketing, i ragazzi lavorano costantemente insomma a stretto contatto anche con i principali poi motori di ricerca, quali Google, Facebook, insomma con cui creano le loro campagne, questo ci permette due cose sostanzialmente, creare opportunità per la rete distributiva, per far sì di aumentare la produzione, questo lo spiego sempre, insomma cerco di trasmetterlo ai nostri collaboratori, ma prima ancora ai nostri manager, la nostra lead generation è un creare opportunità, le opportunità devono essere poi trasformate dai nostri collaboratori, non creiamo lead fine a se stessi, ma creiamo lead per fare pratiche, per aumentare la produzione, avvicinarci a clientela che altrimenti non ci saremmo, non avremmo mai lavorato sostanzialmente, non ci avrebbe mai cercato. Queste due aree, quindi l'information technology, la divisione marketing, sono le aree in cui abbiamo investito di più, continueremo ad investire di più, perché hanno un impatto diretto sulla rete distributiva e su tutto il lavoro che noi stiamo facendo. Chiaramente, faccio solo un appunto, è ovvio che la crescita del numero di collaboratori, la crescita di produzioni, l'aumento anche dei prodotti distribuiti e offerti alla rete di collaboratori va di pari passo con una crescita del back office, che è poi il punto centrale, il punto di comunicazione, il punto di raccordo fra i collaboratori e i nostri partner bancari o finanziari con cui lavoriamo. Su quello abbiamo investito in delle risorse interne, nel 2017 abbiamo perso, fra virgolette, una risorsa importante che è la nostra responsabile del back office, abbiamo preferito non cercare all'esterno le competenze, ma abbiamo fatto crescere le nostre persone interne e abbiamo deciso di costruire con loro responsabile e vice responsabile il back office del futuro. Ho capito. Bene, Massimiliano, siamo arrivati alla conclusione e ti ringraziamo per tutto quello che ci hai raccontato e ringraziamo tutti quanti coloro che ci hanno prestato la loro attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica Face to Face. Grazie.